a grandi salti verso il primo gran premio del 14 marzo e nel vero senso della parola purtroppo per la minardi motore ford bianca e poco telegenica e un po troppo salterina ma non c'è da disperare la macchina salta un po troppo qui comunque per sud africa dove è una pista liscia secondo me siamo messi veramente molto bene io non ho mai avuto una chance di poter lavorare come si deve quest'anno è la prima volta e spero di finalmente tirare fuori tutto quello che sento di poter dare e se un sedile si conquista a suon di soldi e tanti non c'è proprio nulla da recriminare se tanti piloti adesso sono rimasti fuori dal giro non penso che non si debbano lamentare perché magari due o tre o quattro anni fa sono entrati loro in questo modo lasciando fuori altri piloti quindi è un giro continuo quest'anno a me e domani a te